Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video E' arrivato il momento di prendersi l'MVP++ Vi stoppo un attimo e vi dico che oggi alle 17 vi aspetto in live Proveremo i game privati insieme, naturalmente con l'MVP++ sui pixel Quindi vi aspetto oggi alle 17, qui su YouTube Ragazzi, in game vi spiegherò appunto il motivo perché l'ho preso Adesso concentriamoci solo a prendersi l'MVP++ e poi le ulteriori spiegazioni appunto le darò in game E ero proprio contrario a prenderlo, infatti lo prenderò solo per un mese e non lo rinnoverò Possibile lo rinnoverò in futuro, per ora no Ci vediamo direttamente sul sito di Pixel e andiamo ad acquistare questo MVP++ Ci siamo regà, siamo sullo store di iPixel Allora, come potete vedere noi già siamo MVP+, naturalmente l'MVP++ si paga al mese Lo andremo a prendere solo per un mese, quindi per il momento per 30 giorni andremo ad acquistare Naturalmente regà non voglio prendermelo per più di 30 giorni Per ora appunto lascio 30 giorni regà, costa comunque 9,75€ e ci sta, ci sta, ci sta, ci sta Ripeto, sono contrario a prenderlo perché appunto spendere al mese per una cazzata perché comunque non ti dà neanche tanto Ma lo voglio prendere sempre per farci dei contenuti in più e sempre per usare il live, essendo che mi serve anche il live per usare i game privati Lo vado ad acquistare e ci vediamo direttamente in game Ok regà, ho acquistato l'MVP++ In teoria se vado a mettere appunto Marques, qui ci dovrebbe essere appunto MVP++ Credo, andiamo su Minecraft e vediamo appunto se ce lo dà Sono carico regà, sono carico Multiplayer e Pixel Andiamo a vedere se ce lo dà Oh, ho acquistato l'MVP++ per 30 giorni Ma siamo in MVP++ Oh mio Dio No vabbè regà, ma che figo Ma che figo In realtà non so neanche che ci dà l'MVP++ regà E nulla, adesso andiamo a vedere insieme L'ho acquistato ragazzi perché so che ti dà appunto le private tipo Allora in teoria ti dovrebbe dare cosa ti dà in più Adesso andiamo a vedere nel sito Allora ragazzi, l'MVP++ ti dà, a parte tutto quello che c'è l'MVP Il comando per nickarti E ok Lo stream quindi per streamare i game privati Il comando per appunto fare i game privati No, lo stream è tipo una roba per i game privati comunque Suggerimento automatico Emocio di giochi esclusivi Gold e GG alla fine dei giochi Buoni Etichetta della guild Ok, che appunto non ho Apri le scatole misteriose Nuovo messaggio di join Ed effetto particellare Il momento della tensione Ok, è un altro tutto un po' male 80% di più di scatole misteriose settimanali Buoni, buoni, buoni Sfondo del post Cornice per avatar Cornice per avatar animata Eccesso al forum privato Allora in teoria ti faccio il rank color Posso scegliere i colori Sempre quello regà, non cambia nulla Perché appunto per l'MVP++ In teoria Ah, c'è il gold che posso mettere Che cambia? Forza così posso metterlo Ok, molte persone ormai già l'hanno scoperto E ormai regà per forza Ah beh, questo qui si cambia appunto sempre dal cosetto Ok, devi raggiungere tot livelli Bene Ok regà, siamo in game Siamo su Speedway Allora Ho scoperto una roba molto molto figa Rank color Mi sa qui non posso farlo No, devo andare in lobby Praticamente puoi mettere il tuo rank Adesso scrivi in chat Puoi metterlo o gold o aqua GG, ce sta Io appunto l'ho messo gold che mi piace di più E le stelline l'ho lasciata così regà Le stelline nere sono le più belle Però devi aspettare tipo Non so quanti livelli dei pixel Quindi per ora Ce le scordiamo le stelline nere Comunque, comunque, comunque Comunque Per chi ha shoppato la MVP++ Che credo ormai tutti Volete sapere Allora Il motivo principale È per rostare i game privati Essendo che appunto Ogni volta per rostarli Ho appunto qualcuno di voi ragazzi Mi lo stava Che appunto ho sempre ringraziato Oppure direttamente Invitavo io Infatti ultimamente Sto invitando solo io regà Essendo che appunto Non ho la MVP++ Anche se Non avevo proprio voglia di fare i game privati Giusto per livellare un po' il live Naturalmente ragazzi sì Voglio sia fare i game privati Sia appunto Rivellare anche con voi il live Però essendo che appunto Il resto l'abbiamo L'ho comprato Sì Sono soldi Allora Sicuramente ragazzi Sono soldi inutili Perché il MVP++ non serve Infatti lo prendo per un mese E dopo sti cavoli Regà Non lo rinnovo Sicuramente non lo rinnovo Perché non serve A parte stare i game privati Ma anche la cosa figa Che voglio provare È il nick Quindi provare a nickarmi Su Epixel Che appunto Regà Credo di farci un nuovo video Gioco una Beddorf Da nickato Che non so neanche Vabbè Va bene Se Epixel lagga E questo qui ragazzi Mi da delle hit E non riesco proprio a giocare Va benissimo così Quindi ragazzi Sì sicuramente La maggior parte di voi Mi diranno Beh Marquez Hai sprecato dei soldi Per prenderlo Ma regà Io dico Lo so Nel senso Mi servono comunque L'uso in live Quindi per fare i game privati Perché no Ci sta Ripeto ragazzi Sicuramente non lo rinnoverò Questo è poco ma sicuro Allora abbiamo il pink qui Ragazzi Che se riesco anche il led Quindi io faccio un ottimo Così No ci muoio Ok E vabbè Era palese che ci morivo Ragazzi Era proprio palese che ci morivo Perché appunto Non avevo vita Ma sono giocato male Comunque 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 Io volevo appunto dire Fatemi sapere che sono in commenti Appunto che rank siete E oltretutto So che ho fatto Il video dell'nvp plus Ragazzi poco tempo fa Questo qui comunque mi puzza Non vorrei dire nulla Ma mi puzza proprio tanto Ok Però regà Essendo che Ho fatto un ragionamento ragazzi E ho detto Beh ma se io li uso in live Nvp plus plus Alla fine ragazzi Non sono soldi sprecati Perché se comunque Io li uso Perché dovrebbero essere soldi sprecati Se appunto ragazzi Non li usavo Non li usavo Le private Nulla Potevo dire Beh allora sti cazzi Lo uso per un mesetto Perché appunto Dura 30 giorni Nvp plus plus Poi lo puoi prendere anche per un anno Ma mi sembra abbastanza inutile Gigi Se appunto poi regà Mi stufo di usarlo Non fa nulla Non lo rinnovo O poi regà Lo rinnoverò Sicuramente Non lo rinnoverò regà Se no lo rinnovo Ma ve lo dico regà Sicuramente Non lo rinnovo Siamo arrivati in due Ah no C'è anche il grey Quindi Sì 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 C'è anche il grey Andiamo dal grey Andiamo Quindi regà Non me ne pento Non me ne pento appunto Di averlo preso Sti cavoli Regà è una cosa che appunto Si prende una volta Poi non la rinnovi Normale Però intanto Io l'ho presa Facciamo così Letto rotto Mi faccio una spatendia Che Ok capol Bro 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 Non ti suscitare Dammi una kill Prima di suscitarti Ok adesso ti può Anche suscitare bro Tanto la kill Ce l'ho Perfetto Faccio anche una bella prot Una bella men che minor Perfetto perfetto No non perdo la spatendia Per nessun motivo Non perdo la spatendia Per nessun motivo Lo jumpo Easy Andiamo 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 Letto rotto GG Dove sta andando lui Dove sta andando Sta scappando Eh bravo bro Si è fatto jumpare come un asino È andato in base grigia A farsi delle Sì ho delle pozioni Dell'armor Però regà adesso Si va verso sinistra Si va verso sinistra È un casino Ok no Lo becchiamo e lo facciamo Regà in teoria Vieni bro sono carico Ma che livello è 161 O 61 Ah no no 61 GG bro Sei morto GG regà Primo game andato In teoria non ti dà più Non ti dà nulla in più A parte no Per l'MP Plus In teoria non ti dà più Non ti dà nulla in più Buono 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 Allora stavo dicendo appunto Se faccio rank color Posso scegliere qui l'acqua O il god Appunto ho scelto il god Che mi piace di più E qua posso mettere anche il colore Che ho messo appunto dark green Che appunto ragazzi Il colore non lo puoi scegliere In teoria Perché se faccio Sempre il rank color E metto dark green Ah no lo posso scegliere anche il colore Figo 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 Così c'è sta c'è sta c'è sta Ok regà ci siamo nel secondo game Sulle towns regà Molto comunque regà Essere MP plus Plus È veramente figo Nel senso Lo so regà Ormai tutta la cosa dell'inizio Che ti dà Oddio che figo Poi alla fine non te ne frega più nulla È normale Fatemi se per appunto ragazzi Se per voi ho fatto Comunque una scelta giusta O meno Parlando seriamente L'ho preso soprattutto anche per live Che mi danno una bella mano Per fare i game privati Ah bro Perfetto Morto Ok il team Il nostro vicino è andato direttamente Andiamo subito per di qua Ci prendiamo i diamanti Perché in teoria Non ci arrivo Con 22 blocchi in base grigia Ci potrei arrivare Ma tipo poi mi devo buttare Intanto ci provo Ma sapete che ci arrivo Molto molto easy Ma sì ci arrivo Ci arrivo Facciamo così Scendiamo Easy Mettiamola là qui Abbiamo due diamanti Riga cerchiamo di non morire Ok intanto mi faccio una prot Il grigio sicuramente si è allontanato Ok Ah Stava lasciando contro il pink Oddio No voglio io la final del grigio Per favore Grande bro Grande Lasci un minuto final però Bravissimo Gentilissimo Arriva il pink Ok Vieni qui Vai giù Perfetto Ok Avevo messo due strade di regno Letto andato No Un hit No Per chi mette prima lui Perché io pingo di più Ecco il vantaggio del pink Ragazzi Eccolo qui Ok però adesso la final del pink Riga Io me la prendo Io me la prendo la final del pink Morto GG Poi c'è anche il bianco Riga che mi sembra Nickato Dopo appunto ragazzi Voglio fare un video appunto dove Ragazzi Mi voglio nickare Quindi ripeto se volete ragazzi Considemi sotto i commenti Se farlo meno lo voglio fare Che per me è molto molto figo E voglio anche capire appunto come C'è sì Nicka perché non l'ho mai fatto Riga Ok bianco eliminato Perché si è disconnesso GG Io contro il green Andiamo a tararlo Bene Letto distrutto Benissimo Abbiamo il green davanti a noi Andiamo Andiamo Uh ho fatto Farebo il jump Ma l'ha tipo filato un botto L'ha filato Morto GG Più 25 di karma Che sarebbe riga Perché non so in realtà Che cos'è 25 di karma Prima non me lo dava Ma me lo so adesso Che appunto ho shoppato Le vipers plus Ma in realtà Prima non me lo dava Bene Ci andiamo a fare l'ultimo game Ragazzi Proprio ultimo game Su soleis Marcus ciao Oh Abbiamo il green Che è un nostro iscritto Non mi direi che siamo il suo vicino No Ok noi abbiamo il grey A fianco Perfetto Allora qui si lascia subito Con 8 di iron Quindi con 32 di blocchi Andiamo 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 Nel mentre ragazzi Oh Quel cazzo di ragga ha ratato Vai giù Ok Letto rotto Minchia regga ha ratato una ragga Assurda Vai Vedi Tac Morto E anche lui È eliminato Ok abbiamo 3 diamanti Abbiamo anche il bianco Qui regà Ci possiamo andare Tanto ragazzi Il bianco non è letto Andiamo Andiamo Aspettate ragazzi Qui ci dovrebbe essere L'ultimo diamante Perfetto Non lo spieghiamo 4 diamanti Ok ci siamo Letto rotto Oh No Ma perché mi fanno Questo knockback assurdo Perché Dimmi che sta venendo Verso di me per favore Così me lo fai nel kill Sei un grande bianco Sei veramente un grande bro No Merda Mi ha serato la final No bro Non ti è adesso Adesso vieni E ti frullo il cervello Ma Jacopo Avevi diamanti bro Però attento che tra un po' Perdi il letto Eh bro Che mi sa che l'hai perso Ah bro Vuoi ancora stillarmi Le final Stillamele Stillame bro Ma sappi che ci muori Ok adesso ragazzi Abbiamo il green Che è appunto Il nostro grandissimo iscritto Andiamo Ma ci sta lasciando il green No è qui Eh bro A me dispiace lasciarti Ma devo farlo bro Ok Eh devo farlo bro Dispiace anche a me Scusami ma devo farlo purtroppo Che sennò qui ci bannano a tutti Ce l'abbiamo proprio qui Oh ma sta cazzo di trapdoor Che non c'entra un cazzo Ok GG bro GG GG Ok abbiamo solo il blu da killare Raga E il problema ragazzi Che il blu adesso ci va in base Appunto Appunto Allora ci fa il letto E va benissimo Nessun problema Però adesso dobbiamo un attimo Difenderci Direttamente Tanto non se ne è accorto E lo apriamo Bene ragazzi Questo video Dove shop la mp++ Termina qua I motivi per cui l'ho shoppato Ve l'ho detto ragazzi Quindi se volete iscrivetevi Attivate la campanella Lasciate anche un bel like Vi auguro una buona giornata Fatemi sapere appunto Se ho sbagliato Ho comunque fatto bene Per aver acquistato Per me ho fatto bene Per i live Perché ci possiamo divertire Tutti insieme Nei game privati Vi auguro una buona giornata Bella Vi auguro una buona giornata Grazie a tutti